Periodicamente preparo un brodo, brodo di carne con condimento di verdure, ma puntualmente il lesso viene lasciato, non viene consumato. Per risolvere condisco la carne con una salsa tipo tonnata. Preparo la salsa con un po' di brodo, tre scatolette di tonno, due cucchiai di maionese perché mi mancano le uova, altrimenti al posto della maionese due uova, capperi un terzo del barattolino, mezzo limone, al posto delle acciughe va bene anche la pasta di acciughe, olio extravergine di oliva, non aggiungo sale perché gli ingredienti sono già salati, tutti questi ingredienti andranno frullati, tutti insieme, e questa è la salsa, non resta che condire la carne, insaporirla bene bene, il bollito tonnè è pronto e lo accompagniamo con le verdure sempre del brodo del bollito, non si spreca niente, si recupera tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E con questo è finita, grazie, ciao a presto.